Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online, il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici, i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare proprio come i professionisti, i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calcio mercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport, Romagna Sport il primo sito sportivo in Romagna, in tutto Buonasera, buonasera a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata di Fischio Finale Siamo in diretta qui da Teleromagna e come sempre cercheremo di fare il punto della situazione su tutto ciò che è accaduto e sta tuttora accadendo nei campionati di calcio di nostro interesse davvero tantissime partite di cui parlare i risultati da mostrarvi nonostante la sequela di tanti rinvii a causa del coronavirus, un problema che ci ha sostanzialmente privato di quello che era il piattoforte di giornata, il derby tra Ravenna e Cesena, come ben sapete il focolaio che si è sviluppato in casa giallorossa ha costretto il Ravenna a presentare la richiesta di rinvio di questo ma anche di tanti altri match che probabilmente si susseguiranno nelle prossime settimane. Insomma ci sono comunque gli ingredienti per dare vita ad una bella trasmissione anche questa sera in cui ci mancherà il contributo di Danica Russo impegnata domani in un esame universitario dunque cogliamo l'occasione per farle subito il nostro più caloroso in bocca al lupo per il suo impegno ma la squadra seppur a ranghi ridotti prevede la presenza confermatissima di mister Giancarlo Magrini. Ti do subito il benvenuto mister. Buonasera ciao a tutti ben trovati. Buonasera dunque a Magrini e noi ci nutriamo invece subito in quella che è la situazione che riguarda i nostri campionati e lo facciamo andando a vedere i risultati della Serie A che attualmente vede in corso di svolgimento un impegno quello della Juventus travolgente in casa del Cagliari ma vediamo lo sguardo d'assieme andiamo a vedere i risultati della ventisettesima giornata di campionato. E allora Atalanta-Spezia uno degli anticipi terminato sul 3 a 1 Benevento Fiorentina anche qui scatenato Vlaovic tripletta 1 a 4 Bologna-Samp che si è disputato quest'oggi alle 12.30 successo d'oro per il rosso blu 3 a 1 e poi ancora Genoa-Udinese 1 a 1 Lazio-Crotone terminata con un 3 a 2 quest'oggi e nel pomeriggio si sono disputate altre due partite Parma-Roma pesante sconfitta per la Roma 2 a 0 e vittoria d'oro per la capolista Inter 2 a 1 in casa del Torino non dimentichiamoci però anche della match fra Sassuolo e Verona il finale è 3 a 2. Come detto si sta giocando Cagliari-Juventus attualmente il parziale all'intervallo 3 a 0 per la Juve tripletta di Cristiano Ronaldo messo in discussione un po' negli ultimi giorni la risposta è arrivata immediatamente. Questa sera alle 20.45 l'ultimo posticipo quello tra Milan e Napoli che sarà molto importante per la classifica la vediamo subito perché l'Inter non molla di un centimetro 65 punti più 9 attualmente sulla seconda posizione occupata dalla Milan ma anche più 10 virtualmente sulla Juventus se coglierà come sembra molto probabile il successo in casa del Cagliari-Juventus che ha due partite in meno o meglio per meglio dire una in meno se appunto andrà a termine il successo col Cagliari e poi l'Atalanta che aveva agganciato i bianconeri a quota 52 punti e la Roma che resta ferma a 40. Questa sera il Milan cercherà di ritornare ai canonici 6 punti di distacco dall'Inter ma anche il Napoli ha l'obiettivo di salire a quota 50 punti assieme alla Roma. Ma mister un commento l'Inter non si ferma più è attualmente la squadra che può probabilmente perdere soltanto lei il campionato. Solo da solo potrebbe portare via un campionato che l'ha in mano la squadra che ha lavorato a sodo all'inizio ha avuto difficoltà ma le ha risolto molto bene è ben organizzata e soprattutto ha questo valore che l'ha dimostrato con i cambi e quando cambia chi rimane fuori sicuramente tutti dicono ma mi ha lasciato fuori il migliore ma mi ha lasciato fuori il migliore questo entra e fa la differenza e ti fa vincere le partite. Se avanti così c'è poco da fare però il calcio è strano le partite sono tutte da giocare si è anche visto che il primo tempo il Torino ha colpito un palo il portiere è battuto poi il rigore c'è non c'è lo danno lo dà insomma già col Torino che è una squadra come abbiamo visto il campionato è difficilissimo e tutte le partite sono da giocare il vero arbitro è il campo di gioco e sarà quello che dirà la verità andando avanti anche se questa è scappata via insomma prenderla non è facile stare attenti a guardarci attentamente a preparare questa partita che ha alcuna un calendario abbastanza non facile un buon calendario alla prima mossa sbagliata come poteva essere quella di oggi ci poteva verificare vedere com'era effettivamente la corsa si può aspettare certamente un gioco in quella linea però si può certamente dire che l'Inter è nettamente superiore in questo momento al campionato italiano. Un Inter dunque che dirige le operazioni nel campionato di Serie A come dicevamo per chiudere anche il successo del Bologna 31 punti per mettere quasi in salvo definitivamente la propria classifica per rimanere anche nella prossima stagione nella campionato di Serie A. Andiamo però a vedere un'altra squadra dominante ora rilanciata da ottimi risultati nella giornata di ieri ci spostiamo in Serie B e vediamo come Lempoli stia adesso dominando la scena. Dunque i risultati innanzitutto della ventottesima giornata Ascoli Venezia 1 a 1 Cittadella Pisa 2 a 0 Cremonese Reggiana 3 a 0 Frosinone Brescia 0 a 1 Lecce Chievo 4 a 2 Pordenone Pescara 0 a 0 Regina Batte Monza 1 a 0 Salernitana Cosenza 0 a 0 così come lo stesso Spal Virtus Entella e poi a chiudere proprio il successo dell'Empoli sul difficile campo del Vicenza e gli effetti li vediamo chiaramente in classifica perché se c'era stato un riavvicinamento degli inseguitrici la settimana scorsa i risultati ora invece sono tutti positivi. Infatti l'Empoli grazie alla vittoria ottenuta in casa della Vicenza si permette di avere adesso sei punti di margine sia sul Monza sconfitto come dicevamo in casa della Regina ma anche sulla Salernitana che non è andata oltre lo 0 a 0 casalingo col Cosenza. Risale allora la grande il Lecce trascinata dai gol di coda il 4 a 2 per battere il Chievo che permette ai Salentini di agganciare il Venezia che come sappiamo ha pareggiato ad Ascoli. Mister anche qui la squadra di Dionisi, l'Empoli che noi conosciamo avendolo visto a Imola in azione il miglior risultato nella storia di Rosso Blu. Primo posto sembra anche qui una capolista che difficilmente perderà il proprio trono. Sicuramente ha dimostrato anche prima, già da Fiorenzuola a Imola, grosse dote a Venezia e sta dimostrando ancora giorno per giorno ancora di più uno che ha serenità, fa giocare la squadra libera e tranquilla, ha un buon gioco ha una buona organizzazione totale, fa un po' un mix non è uno che fa un 4-3-3 ma non è questo non è un integralista però scivola in un 4-5-1 o viceversa ha buoni giocatori da mettere campo in su ha 4-5 giocatori da categoria superiore ha sempre fatto dei 23-24-25 gol quando comincia ad avere dei cecchini che fanno gol il gol è quello che ti fa vivere bene, che ti fa vincere, che ti fa fare entusiasmo e anche una continuità, 22 risultati utili consecutivi, tanti pareggi e adesso però questa vittoria che pesa tanto esatto, questa è la vittoria che pesa anche per tenerle 6 punti che 6 punti e portarli via è tanta roba perciò a questo punto loro hanno la possibilità di giocare su due risultati e non tutti l'hanno perché dietro se vogliono arrivare si sono già allontanati ma tutti i punti devono vincere e stravincere sperando che loro non sia così che non riescono a vincere ma la mentalità che c'ha di ogni buona squadra come hanno lavorato bene e credo che l'Empoli faccia un discorso a parte ce la dovrà giocare il Monzo, la Salernità, il Lecce si è inserito molto bene anche il Venezia però credo che quelle 3 o 4 sono quelle che dovranno dire quella che mi aspettavo di più era la spalla, è il Chievo però ancora da giocare non si sa perché bastano due vittorie o tre vittorie e ti butti subito nel maloppo, nel gruppone poi il campo sarà quello che decide e se noi avevamo parlato di un campionato di Serie C sempre più indirizzato verso Padova oggi arrivano smentite importanti per questo concetto andiamo a vedere i risultati di oggi un quadro pressoché completo tranne ovviamente la partita di cui dicevamo Ravenna Cesena rinviata per Covid e anche il match tra Dispesaro e San Benedettese questo invece è in corso di svolgimento e il risultato al momento vede una San Benedettese in assoluto controllo 3 a 1 a 8 minuti dal termine gli altri risultati Arezzo-Fermana 1 a 0 Legnago-Fano 3 a 0 Matelica-Padova 4 a 1 Modena-Mantova 1 a 1 Perugia-Carpi 2 a 0 Suttirol-Imolese-Pesante 4 a 0 Triestina-Feralpi-Salò 1 a 1 Virtus Verona-Gubbio 0 a 1 E allora andiamo a vedere la classifica e come dicevamo notiamo come la caduta pesante della Padova abbia fatto sostanzialmente riavvicinare tutte le inseguitrici parliamo soprattutto della Suttirol parità di partite disputate meno 2 in classifica ma attenzione allo stesso Perugia quest'oggi vittorioso contro il Carpi Perugia che deve ancora recuperare una partita attualmente è a meno 4 ma in caso di vittoria salirebbe proprio ad un singolo punto dal Padova ma ciò che possiamo vedere più da vicino è la zona salvezza perché arriva l'aggancio dell'Arezzo contro sul Ravenna Ravenna-Fermo con una partita in meno ma Arezzo che perfeziona dunque la sua rimonta grazie alla vittoria ottenuta nell'anticipo contro la Fermana oggi altra cattiva notizia per il Ravenna che vede allontanarsi la terz'ultima posizione il legnago del nuovo allenatore Colella che ottiene un altro successo fondamentale 3 a 0 sul Fano Ravenna adesso a meno 6 proprio dai Veneti entreremo più nel dettaglio nel corso della trasmissione sui risultati, sui gol e anche sulle spiegazioni di queste dinamiche della Serie C andiamo però nel campionato di Serie D dove vi manifestiamo i risultati semplicemente di alcuni recuperi due però riguardavano le romagnole parliamo della vittoria dell'Aglianese sulla Mezzolara 1 a 0 la San Maurese che compie l'impresa in casa del Sasso Marconi 1 a 0 vittoria per i giallorossi firmata dall'undicesimo centro stagionale di Francesco Manuzzi cade invece il Cattolica SG in casa della Fiorenzuola 4 a 2 nella prima del nuovo tecnico Matteo Vullo inutile il vantaggio di Docente all'inizio ripresa poi i gol di Perseu Ferri Stronati per il 3 a 1 il rigore di Rizzitelli per dare un po' di speranza poi speranza che svanisce con il gol finale di Oneto mentre è stato rinviato sempre per coronavirus il recupero di Real Forte Querceto e Correggese in chiusura vediamo anche la serie B femminile il recupero quello che riguardava il match fra Roma e Tavagnacco 1 a 0 e poi la vittoria del Brescia 2 a 0 sul Perugia e il pareggio nell'anticipo della diciannovesima giornata fra Lazio e Cesena con il Cesena abile a rimontare due gol che aveva di disavanzo dunque vediamo la classifica del campionato di serie B femminile e capiamo come grazie a questo pareggio il Cesena si porti seppur con più partite rispetto a tutte le rivali in seconda posizione 31 i punti a disposizione delle bianconere ma come dicevamo più tre partite disputate sul Tavagnacco e più due sul Pomigliano bene tra pochissimo ci fermeremo per una pausa però prima e vorrei coinvolgere anche mister Giancarlo Magrini non possiamo non ricordare una figura che possiamo definire senza tema di smentita iconica per la nostra zona per non dire anche leggendaria parliamo di Raul Casadei che è venuto a mancare nella giornata di ieri all'età di 83 anni dopo una lotta purtroppo senza un fine lieto con il coronavirus Giancarlo parliamo di un personaggio che è entrato nel cuore dei romagnoli ma possiamo dirlo di tutti gli italiani sì direi un complesso europeo perché penso che a Romagna mia tutto il mondo lo conosca veramente grazie questo Casadei il figlio la famiglia Casadei che è sempre stato in primo livello in prima linea portare questa diciamo così musica fantastica che non potremo mai dimenticare finché saremo qui a verificare giorno per giorno notte per notte in cui andiamo avanti bellissimi anche i ricordi delle diverse tifoserie tra cui quello dei tifosi della Cesena che ha parlato di un personaggio che non verrà mai dimenticato e le note da lui suonate le parole da lui usate verranno usate a loro volta dai tifosi della Cesena nei cori che verranno sempre intonati dunque un personaggio che ha unito un intero popolo e che ha convinto e coinvolto tutta la nostra nazione italiana dunque ci tenevamo a fare questo saluto anche da parte nostra anche da parte di fischio finale a Raul Casadei noi però tra pochissimo torneremo ad occuparci delle nostre partite inizieremo con una sconfitta pesante quella dell'Imolese in casa della Suttiro prima però ci fermiamo qualche secondo il buono della tua terra dal 1959 sempre 3 a 0 per la Juventus a Cagliari sempre 3 a 1 per la San Benedettese nell'altro posticipo in questo caso che riguarda il campionato di Serie C in casa della Vis Pesaro ma a proposito di Serie C come dicevamo un impegno difficilissimo per l'Imolese è terminato nel peggiore dei modi con una sconfitta roboante 4 a 0 vittoria per il Suttiro che si rilancia in classifica vediamo e possiamo dirlo finalmente in campo l'una contro l'altra dopo che all'andata non erano potute scendere in campo per il guasto capitato all'impianto dell'illuminazione del Galli insomma Suttirol e Imolese condividevano lo stesso bisogno di punti alla vigilia del match di oggi pomeriggio ovviamente con obiettivi ben differenti l'una dall'altra e allora il Suttirol voleva fare la voce grossa grazie ai suoi interpreti di grandissimo spessore di grandissimo talento ci prova subito la squadra padrona di casa Tait sfiora il gol salva il portiere Siano ma dopo una fase di maggior studio delle due squadre il grande vantaggio trovato dal Suttirol con una combinazione perfetta Voltan Casiraghi Voltan e poi il gol spettacolare che permette al Suttirol di sbloccare il match e da lì in avanti di non concedere praticamente più nulla all'imolese con il migliore in campo per quello che abbiamo visto Voltan che a sinistra ha fatto letteralmente il vuoto qui con l'ottima collaborazione del compagno Casiraghi come dicevamo eravamo alla 36esimo minuto di gioco 42esimo ancora Suttirol che apre l'azione sulla sinistra sempre a beneficio del numero 7 che si libera per il destro palla che sfiora il palo vicino alla doppietta personale Voltan che imperversa letteralmente può mettere al centro un altro cross palla che spiove al centro per questo palleggio e poi la girata strepitosa quella di Morelli il raddoppio arriva per il Suttirol ed è una mazzata arriva proprio al primo minuto di recupero della prima frazione di gioco gettando acqua ghiacciata sulle speranze di rimonta degli molese ma anche qui rimarchevole quello che ha fatto Morelli con uno stop il palleggio e la girata per dare alla palla una parabola arcuatissima andiamo allora al cinquantaquattresimo siamo nella ripresa Tommasini diagonale vincente per Limolese sull'assist di Aurelio ma come vediamo nel replay fuori gioco netto per lui e poi i cambi per Limolese dentro Moracchioli per Alboni sostituito da parte della Suttirol Voltan con Rover quando manca ormai poco più di 20 minuti di gioco 25 minuti di gioco alla fine dell'incontro su Tirol che vuole agire in contropiede con Rover che è uno specialista del settore intanto in contropiede si sviluppa questa fase questo duello tra Casiraghi e Pilati prevale il numero 17 poi intervento della direttore di gara su questo contatto giudicato falloso calcio di rigore per il Suttirol l'interpretazione di Repace anche se abbiamo visto la palla cambiare lievemente la traiettoria dunque grandi le proteste del Limolese per la trasformazione che poi viene affidata al numero 17 a Casiraghi il suo piazzato che non lascia scampo al portiere Siano che dunque non può far altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco Limolese sotto adesso di tre reti e a Bolzano stanno arrivando le notizie che sono festose da Macerata il Padova sta crollando letteralmente stramazzando al suolo nel match di Macerata contro il Matelica e allora c'è la possibilità di festeggiare doppiamente questo pomeriggio di gloria mentre Limolese si affaccia in attacco a due minuti dalla fine con questo pallone controllato da Aurelio lo scarico per Onisa il sinistro violentissimo che coglie il legno alla destra del portiere Poluzzi e poi 91esimo ormai iniziato come dicevamo il contropiedista per eccellenza è Rover che semina letteralmente carini e davanti a Siano non fallisce il gol del 4-0 il poker servito dalla Suttirol con estrema facilità in questa circostanza dunque un 4-0 che riapre completamente il campionato vediamo ancora il duello vincente per quanto riguarda Rover come dicevamo un 4-0 pesantissimo forse al di là dei demeriti dell'Imole che non aveva sfigurato soprattutto nella prima frazione di gioco poi ha pagato l'inferiorità tecnica rispetto all'ottima squadra di Stefano Vecchi insomma Suttirol batte Imolese 4-0 Giancarlo un passivo molto pesante come dicevamo forse al di là dei demeriti oggi era difficile contenere comunque il Suttirol Suttirol nettamente squadra formata per la classifica diversa dove si è trovato ha avuto un attimo di sbandamento si è ripresi in pieno si è portata lì due punti direi che adesso è tutto da giocare perché due punti sono ben pochi poi c'è quando rincori che vedi che sei lì la puoi prendere diventa anche discorso psicologico molto interessante poi sappiamo che la squadra è attrazzata già da due o tre anni fatta per vincere perciò è ovvio che prima o poi riesca a fare quello che sta facendo perché è un buon staff tecnico gente di esperienza a buoni calciatori a due attaccanti velocissimi sul contropiede perciò c'è tutto da farsi per poter fare una cosa in grande e loro la stanno facendo e la classifica parla chiaro e del campo è quello che decide e del limolese mister la cattiva notizia questa sconfitta la buona notizia il K.O. del Fano ma di nuovo un'altra cattiva notizia il Legnago che si è ripreso che ha battuto il Fano che si fa di nuovo minaccioso per l'imolese si può dire che è un campionato ancora molto lungo anche per quanto riguarda il rosso-blu ma non si può ormai sbagliare quasi più nulla perché le squadre sono tutte lì Giancarlo Sì sono in tre punti in tre punti è una partita chiaro che però se ti subentra la paura dopo diventa un problema un problema grosso anche perché io ultimamente le ho visti giocare un paio di volte le ho visto bene e meno bene proprio due squadre diverse in campo ho visto ben organizzati alcuni giovani importantissimi come Rosani come Lombardi come Terusani Lombardi Marchiori ne hanno un portiere insomma però le ho visti anche nel momento di difficoltà come sono andati in difficoltà hanno volato e questa è una cosa che questo è la si insegno anche perché mister mercoledì c'è proprio il Molese Legnago ore 17-30 match fondamentale così come lo sarà quello fra Cesena e Matelica come dicevamo non si disputerà con ogni probabilità per non dire certezza San Benedettese e Ravenna insomma subito questo scontro diretto quando il Legnago si sta rilanciando esatto il Legnago ha cambiato ha preso anche un allenatore di categoria che conosce benissimo il Girone conosce bene la zona nord sembra che non conti però una piccola percentuale è anche un allenatore che conosce l'ambiente conosce il campionato sa come da farsi ed ha abitudini di allottare sempre per salvarsi che il vantaggio è anche questo è un attore che guardi il Ponticino vuol dire che il Ponticino lo mette da parte alla fine gli è incomodo ed è un spiculare arrivare a prendere diciamo così mettere nella cascina il fiema che ci serve siamo pronti con quello che c'è da fare chiaro potenzialmente la squadra giovanissima si sa anche che i giovani se sono diciamo così in euforia tutto sembra di avere chissà che cosa poi basta un nulla che perdi perdi anzi ti domandi come mai questo perché questo perché quell'altro poi si vanno a trovare tutte storie è logico che la pandemia c'è il problema c'è ma non c'è solo per chi è ultimo e per chi è primo c'è per tutti dalla serie A alla terza categoria e automaticamente è una gestione che te la devi portare avanti con la tua responsabilità la prima responsabilità è quella di avere un atteggiamento corretto davanti agli altri con mascheriera con organizzazione non trovarti sempre a me insomma una mano lavo l'altra se ci sei dentro altrimenti diventa un grosso problema e le difficoltà ogni giorno che passa aumentano intanto è arrivato il finale dal match tra Vispesaro e Sambedettese vittoria come dicevamo per 3 a 1 della Samb firmata dai gol di Lescano D'Ambrosio il momentaneo 1 a 2 di Paola ma poi il 3 a 1 già nella prima mezz'ora firmato da D'Angelo poi partita che non ha più subito scossoni allora vediamo di nuovo la classifica di Serie C prendiamo atto di una vittoria importante per la Samb che sale in classifica scavalcando Cesena e riagganciandosi al Mattelica Cesena che come dicevamo però non è scesa in campo ha diversi recuperi ancora da sostenere mentre la Vispesaro resta a disposizione delle inseguitrici Fano e Imolese per la corsa alla salvezza l'ultimo aggiornamento prima di separarci per qualche minuto ci arriva da Cagliari dove i rosso-blu hanno accorciato le distanze con la gol di Simeone dunque al momento Cagliari 1 Juventus 3 però come dicevamo è il momento di fermarci per qualche minuto ma ritorneremo tra pochissimo per andare a vedere i tanti tantissimi gol che abbiamo a nostra disposizione regia il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online e allora continuiamo con fischio finale proseguiamo la nostra discesa nel campionato di serie C in questo caso parliamo proprio di usiamo proprio questo termine perché andiamo a vedere come l'ultima in classifica l'Arezzo ha saputo avere ragione della fermana conquistando il suo terzo successo stagionale e agganciandosi così al Ravenna in questa ultima barra penultima posizione del campionato vediamo tre partite per svoltare in maniera definitiva erano quelle che aveva adesso a propria disposizione l'Arezzo che ieri pomeriggio attendeva una fermana sempre più vicina alla salvezza diretta prima di affrontare in rapida successione il Fano e l'Imolese insomma una settimana davvero da evitare per in cui evitare passaggio a vuoto per la squadra allenata da Stellone che ci prova inizialmente affidandosi a questi calci di punizione di pinna le traiettorie che però non mettono in ambasce il portiere Ginestra ma come vediamo è un match che si gioca sul filo dei nervi tra Arezzo e Fermana più propositiva la squadra padrona di casa nel primo tempo con Altobelli che ruba palla a Cremona e poi calcia alto andiamo allora al 38esimo è uno schema questo su punizione per l'Arezzo sprecato sotto misura da Cherubin sull'ottimo assist di Jacoponi davvero quasi un gol che poteva manifestarsi ma piedi da difensore per il numero 5 si resta solo 0-0 anche ad inizio ripresa è entrato nella fermana Kingsley Boateng ma la conclusione è quella di Cremona sul fondo andiamo allora al 67esimo minuto il duello a centrocampo vinto dall'Arezzo che può scivolare via nella propria azione cercare la battuta dalla distanza deviata ci aveva provato Jacoponi con questa conclusione da lontano pallone alto sulla traversa al 70esimo però l'episodio decisivo con l'erroraccio in fase difensiva di scrosta che atterra Perez dopo avergli sostanzialmente lasciato il pallone nel duello uno contro uno vediamo il tutto nel replay come vediamo viene saltato dall'attaccante dell'Arezzo che poi viene steso in maniera irregolare altro replay per accertarci dell'entità del contatto e allarga il braccio procurando dunque un danno all'avversario calcio di rigore netto per l'Arezzo dalla dischetto c'è Di Paolo Antonio contro lo specialista Ginestra un portiere che di solito li neutralizza tutti e per poco non riesce a fare altrettanto anche contro Di Paolo Antonio tocca il pallone non riesce ad evitare che sfili però alle sue spalle vantaggio dell'Arezzo ma come vediamo più che sconsolato Ginestra che batte i pugni sul terreno di gioco anche perché ancora una volta era andato vicino alla capolavoro dopo i due che aveva neutralizzato poche settimane fa in una partita entrata nella storia quella contro il Carpi dei quattro rigori sbagliati nello stesso match si resta così sull'1-0 e sale in cattedra ma lo possiamo dire in maniera del tutto negativa Boateng che cede nelle proteste e rimedia anche un cartellino giallo per un semplice fallo laterale cartellino giallo ottenuto alla settantasettesimo e alla settantottesimo ancora Boateng che cerca di andare via col pallone poi entra in maniera del tutto inappropriata con il piede a martello sul giocatore dell'Arezzo e riceve subito il secondo giallo il cartellino rosso davvero troppo nervoso il giovane prodotto della scuola del Milan dunque la fermana sotto di un gol sotto di un uomo deve cercare qualche contromisura negli ultimi dieci minuti di gioco e qui ancora rivediamo la sciocchezza piede a martello forse era anche da rosso diretto questo intervento di Boateng spostiamoci però all'ottantasettesimo e l'Arezzo prova a complicarsi la vita punizione di Neglia a vuoto il portiere Sala su Manetta graziato l'Arezzo in questa circostanza e poi novantatresimo altra follia della fermana il fallaccio di Bonetto su Arini saltano i nervi in casa giallo-blu anche questo intervento sconsiderato con la fermana che così chiuderà in nove uomini in casa dell'Arezzo anche se sembra molto perplesso il numero 32 ma anche qui il replay gli lascia davvero poca possibilità di replica per l'intervento falloso commesso ai danni di Arini 4 minuti e 30 di sofferenza per l'Arezzo seppur col doppio vantaggio in termini di effettivi basta però l'1-0 alla squadra toscana per rilanciarsi per agganciarsi alla Ravenna nell'ultima posizione del campionato e allora Giancarlo il Ravenna tra l'altro come dicevamo piove sul bagnato per il Ravenna focolaio di coronavirus che inciderà purtroppo sulla finale di campionato dei giallorossi e poi la notizia anche della positività di Mokulu per un'autentica ingenuità dell'attaccante seppur esperto giallorosso positività al doping per aver preso una pomata che conteneva il Clostebolla metabolita che noi abbiamo imparato a conoscere per la squalifica che rimedio invece dal monte quando vestiva la maglia della Cesena tutto questo Giancarlo per dire Arezzo che si è ricongiunto alla Ravenna adesso sono guai adesso la gioca qualche rinforzo l'ha preso è arrivato è cambiato un po' tutto era già fuori dai giochi invece adesso si era messo nei giochi ecco ancora una volta sappiamo come si va non si sa mai come finisce fra cinque giorni fra una settimana se si gioca se non si gioca come allenarsi insomma i problemi sono un saccavallo l'uno sopra l'altro che è uno spavento però sicuramente adesso se la possano giocare che è una cosa positiva al cento per cento un Arezzo che abbiamo visto anche in questa partita non è ancora la squadra brillante che uno si potrebbe aspettare anche scorrendo alcuni nomi che abbiamo visto ma che adesso è iniziata ad essere molto concreta nelle ultime settimane giocatori di categoria ci vuole un po' perché quando prendi questi acquisti che l'Unione giocava un poco non si sono trovati bene evidentemente come è successo anche a Cesele alcuni che erano fermi da 4-5 mesi devi pagare il prezzo perciò sei fortuna che si mettono subito in rondaggio e vanno subito al lavoro in una certa maniera una mentalità giusta anche perché chi vanno in queste società che hanno già un passato ci vanno con uno spirito molto attento molto decisivo perché sanno che è il suo lavoro insomma se vogliono pensarci bene sono occasioni che è meglio non farsi fuggire assolutamente un Arezzo che non è più la mina vagante ma è una realtà davvero da tenere in considerazione mentre invece noi di mine vaganti ci occupiamo ma per la zona playoff perché andiamoci a vedere un altro anticipo della giornata di ieri la sfida della Nereo Rocco tra Triestina e Feralpi Salò match terminato in perfetta parità 1-1 vediamo insomma punti pesantissimi erano messi in appaglio tra Triestina e Feralpi Salò rispettivamente la quinta e la sesta forza di un campionato di serie C che ormai sembrava aver stabilito in maniera molto chiara le gerarchie del campionato in quanto nella squadra di Pilon né quella di Pavanel sembravano e sembrano destinate a reinserirsi nella corsa per la promozione diretta di sicuro nessuno voleva fallire questo appuntamento proprio per non perdere terreno nella ricerca del miglior appiazzamento in classifica un match dunque molto tirato molto combattuto seppur poco spettacolare all'ottavo minuto la Triestina inaugura il suo buon primo tempo con questa conclusione centrale di Procaccio e poi Sarno l'ex baby prodigio che manovra il pallone con il suo sinistro lo scarica per questa conclusione di Lepore che assume una traiettoria sfortunata per lui sembrava diretta all'incrocio dei pali andiamo al ventisettesimo punizione traversa per la Triestina un colpo di testa di Litteri che scuote dunque la traversa posta alle spalle della portiere De Lucia come vediamo nel replay ormai completamente fuori causa sulla perfetta scelta di tempo di Litteri che avrà comunque modo di rifarsi nel corso del match andiamo alla mezz'ora battuta dalla distanza in questo caso più facile l'intervento dell'estremo difensore ospite nella finale i primi segnali di vita per la Feralti Salò anche se possiamo dirlo non certo pericolosissima nella conclusione di Brogni molto più ficcante l'azione alla 43esimo con il sinistro alla fine effettuato da Ceccarelli c'è Offredi a dirgli di no c'è dunque un appunteggio che resta quello di 0 a 0 quando ci ritroviamo nel corso della seconda frazione calcio di punizione di Sarno da lontanissimo sfiora l'incrocio dei pali e poi 58esimo minuto ancora Procaccio sulla sinistra mette al centro il cross per questo colpo di testa di Litteri centrale blocca De Lucia con le immagini adesso siamo al 73esimo siamo sempre su da 0 a 0 quando la Triestina manovra con Procaccio che ha faticato un po' a trovare gli spazi rispetto a quelli da lui solitamente occupati e poi 75esimo sempre in azione la squadra Giuliana altro cross dalla destra quello di Lepore per Gomez non cambia l'esito colpo di testa centrale una match che dunque sta faticando a trovare la propria chiave di volta altra conclusione quella di Procaccio che fa solo il solletico a De Lucia in realtà i colpi di scena iniziano alla 78esimo con la Feral Pissalò che mette in azione sulla destra Ceccarelli la cross di Mancino e poi come vediamo si libera alla grande della proprio marcatore il solito scarsella il centrocampista che possiamo dirlo altro che fiuto del gol a momenti vince la classifica a marcatori un giocatore in assoluto controllo del campionato è sempre lui a farsi trovare pronto negli inserimenti anche se c'erano le proteste dei difensori della Triestina per un presunto fallo in partenza reazione però immediata e vincente quella della Triestina sul cross di Procaccio l'appoggio di Gomitz e il gol di Litteri immediata dunque la replica della Triestina che come vediamo vuole assolutamente rimettere il pallone al centro vuole assolutamente prendersi i tre punti su una Feral Pissalò in questo caso disattenta nel lasciare smarcatissimo l'attaccante della Triestina segno dunque nel suo inserimento un gol che però non avrà più sviluppi arriva il triplice fischio della direttore di gara arriva dunque il pareggio fra Triestina e Feral Pissalò uno a uno e possiamo dirlo mister giusto così due squadre forse la traversa colta dalla Triestina qualcosa in più ma non è stato un fallo lì che poi hanno fatto finto di non vederlo che l'hanno trattenuto si va a attaccare queste cose qui sono tantissime una la vede l'altra non la vede sicuramente è una partita a buoni livelli entrambi devono fare la corsa per arrivare più alto possibile la classifica parla chiaro le ha messe in gioco e adesso dipende solo da loro assolutamente non più direi per tornare a competere per le primissime posizioni dove abbiamo un quartetto al momento di squadre ben definito no Giancarlo è chiaro anche se c'è il quartetto però se ha quattro punti tre punti capito non è che sei lontano negli otto invece negli otto che deve arrivare ecco Cesena 45 sono lì a sei punti sei punti sono due partite insomma parliamo della penultima perché nel corso di pre-off la vittuale Gianna che è arrivata settima possiamo dire è un terno all'otto anche la post-season quando arrivi lì nel momento cruciale come stai fisicamente come la condizione come l'ambiente ci sono tante tante robine che aiutano a fare un buon castello per poterci vivere dentro e divertirsi in un futuro vedremo come andrà a finire e tra poco vedremo un'altra candidata quantomeno per un ottimo piazzamento in zona play-off parliamo della Modena quest'oggi che ha impattato contro il Mantua prima di farlo però una brevissima sosta per noi alpe cimbra la perla di neve delle alpe trentine culla dei professionisti dello sci 100 km di piste per lo sci alpino e altri 100 km per lo sci nordico vivi parking kinderheim slittino vie e mille attrazioni per i più piccoli dall'alba al tramonto una vacanza da sogno www.alpecimbra.it e allora a proposito di launch match quello di oggi riguardava il Modena una sfida molto interessante molto aperta sulla carta ma come vedremo tra poco lo è stato anche sul terreno di gioco Modena e Mantua infatti hanno impattato col punteggio di 1 a 1 vediamo Meno male che il Braglia c'è per il Modena lo stadio di casa era diventato più di una scialuppa di salvataggio in queste ultime settimane di campionato caratterizzate da una perfetta simmetria fra vittorie casalinghe a cui avevano fatto inevitabilmente da contorno gli scivoloni in trasferta dunque in questo senso il match di oggi contro il Mantua era particolarmente atteso per riprendere il cammino dopo la pesante sconfitta nel derby arrivata contro il Carpi una Modena che inizia dunque con grandi progetti soprattutto una grandissima combinazione quella che al quindicesimo porta Bearzotti a mettere al centro un cross a trovare Corradi che appoggia a beneficio di Tulissi splendido gol e splendido vantaggio per la squadra padrona di casa qui vediamo proprio solo il finale dell'azione e qui il cross come vediamo anche la difesa del Mantua completamente sorpresa nessuno a chiudere sul numero 7 dei Canarini andiamo ora al 27esimo minuto ancora il Modena a fare la partita a cercare ulteriormente di incrementare il proprio bottino cross effettuato da parte di Mignanelli colpo di testa di Moroni sul fondo buona Modena nella prima mezz'ora il Mantua però è in fase di carburazione c'è il lancio di Lucas il cross la sponda di Zigoni e poi Gagno dice di no a Guccione si oppone il portiere del Modena colpetto come vediamo evitando dunque il pareggio del Mantua che però chiude in attacco la prima frazione trova un'altra chance colossale con Zigoni ancora Gagno decisivo nella circostanza tutto nasce dopo questo autentico laccio che si verifica nell'area di rigore del Modena Modena che si ripropone al quarantesimo grande possibilità per chiudere i conti la spreca però Mignanelli perché c'è sulla sua strada un eccellente Tosi salvataggio che vale come un gol quello del portiere del Mantua va tu per tu con la mano di richiamo un riflesso prodigioso per lui e allora andiamo nella ripresa siamo al quarantottesimo il Modena che trova il gol per il 2 a 0 ma il gol di Spagnoli è annullato senza nessuna protesta tra l'altro della giocatore del Modena effettivamente è scattato in posizione di offside su un'altra ottima imbucata di Corradi il Mantua però resta in agguato e sa cogliere il massimo da un'autentica fase positiva del suo match siamo al cinquantaduesimo c'è Guccione che si accentra e propone un tiro che sicuramente non sembrava irresistibile ma questa volta gagno la combina grossa e dunque se dicevamo che il terreno del Braglia era amico qui non è stato affatto del Modena un rimbalzo che ha reso fasullo il tiro di Guccione l'ha reso imparabile per lui anche se la complicità del portiere resta evidente e dunque sull'1-1 il Modena deve rifare tutto da capo e ci prova con questo tiro incredibile la palla che per poco non sorprende Tosi con il sinistro da centrocampo della migliore in campo di Corradi che per poco non realizzava il gol del secolo al volo di sinistro vicinissimo all'incrocio dei pali davvero un quasi gol per il Modena che resta però sull'1-1 che reclama un rigore sul colpo di testa in area di rigore palla che poi resta ancora a disposizione altro intervento giudicato regolare e qui l'intervento di Guccione è invece regolare non tocca il pallone col braccio sul colpo di testa in area di rigore a proposito di Guccione assist splendido Zigoni e si riscatta Gagno ipnotizzando Zigoni che tarda forse a effettuare la sua conclusione e Gagno gli chiude lo specchio in questo caso si può dire riscattandosi alla grande sembrava il gol del sorpasso questo per il Mantua che non arriva e allora Modena ancora con speranze di vittoria all'84esimo conclusione potente quella effettuata da parte di Gerli Tosi gli dice di no dunque Tosi si conferma in ottimo stato nel match contro il Modena per evitare dunque la caduta del Mantua non si verifica perché arriva un pareggio uno a uno tra queste formazioni per chiudere la seconda parte della nostra trasmissione spostiamoci subito a Legnago per vedere quello che era il match più atteso nella zona bassa della classifica quella che interessa da vicino Ravenna e Imolese Legnago che ha debuttato con il suo nuovo allenatore nel miglior modo possibile travolgendo il Fano 3 a 0 vediamo pronti via dunque per una nuova avventura per il Legnago caduto letteralmente in una crisi senza fondo con gli ultimi match della gestione Bagatti che erano andati a finire tutti in maniera negativa per quanto riguarda la squadra Veneta che dunque ha chiamato un nuovo allenatore Colella e soprattutto ha trovato un nuovo spirito per disputare il match contro il Fano lo vediamo subito nella prima azione con questa conclusione di Bulevardi sull'assist di Lazarevic ed è Viscovo a dirgli di no al quinto minuto di gioco ma la furia del Legnago si manifesta al nono minuto con questa azione sulla destra Giacobbe allarga per Zanolli la palla che resta viva in area di rigore ed ha davvero un istinto da bomber Bondioli per trovarsi nel posto giusto al momento giusto per rialzarsi come un fulmine e avventarsi sul pallone trovando lo scavetto per superare il portiere Viscovo 1 a 0 per il Legnago che non si accontenta affatto del punteggio mentre vediamo un gesto quasi di protesta del numero 6 del Legnago ma l'azione è già al 27esimo assist e pallone che alla fine piega le mani del portiere Viscovo sull'assist di Lazarevic e Shakir a firmare il gol del raddoppio del Legnago davvero travolgente l'impatto della nuova gestione Colella su un affano irreconoscibile quest'oggi e preda letteralmente delle folate offensive del Legnago tutto nasce qui da un'applicazione corretta non c'è fuorigioco può involarsi sulla sinistra Lazarevic nello scambio proprio con Shakir inaugurato e concluso dal numero 17 del Legnago andiamo allora al 33esimo non è finita qua perché c'è in azione Buric che apre sulla destra cross ciccato il pallone non così invece la battuta vincente di Lazarevic addirittura sotto le gambe c'è parso di aver visto della portiere Viscovo niente da fare per lui la palla che passa esattamente sotto le gambe della portiere 3 a 0 dominio del Legnago 3 gol uno più Rocambolesco dell'altro poteva esserlo anche questo Nepi tacco out seppur di poco per il giocatore del Fano spostiamoci addirittura al 69esimo minuto sempre 3 a 0 per il Legnago Fano che fa solo il solletico su questa conclusione di Marino alla portiere Pizzignacco e poi ancora settantasettesimo minuto sempre la possibilità per il Fano in precedenza si trattava di Itli questa è la battuta invece di Marino e ancora in azione il Fano sulla sinistra con questa possibilità di una cross al centro palla che spiove ed è grande la risposta di Pizzignacco sul colpo di testa ancora di Itli palla ancora viva conclusione respinta seconda possibilità prima Rodio poi Marino niente da fare per loro il Legnago non vuole concedere alcun gol ai propri avversari anzi cerca in contropiede il 4 a 0 fan di tutto per pasticciare i difensori del Fano e alla fine Cason ci prova pardon Morselli ci prova con questa battuta sul fondo dalla parte opposta il Fano con questa rovesciata in area di rigore altro parapiglia altra situazione sventata dalla segnalazione di offside insomma si gioca per trovare il gol della speranza o quello che potrebbe sigillare il match in maniera definitiva 89 sempre come dicevamo 3 a 0 per il Legnago altra situazione per il Fano il gol realizzato da Nepi ma in precedenza il fischio del direttore di gara che punisce questo fuorigioco e non certo questo segnalato dalla regia in cui non c'era assolutamente fuorigioco precedente di Itli e poi la battuta di Nepi in questo caso il gol è assolutamente irregolare andiamo allora alla 91esimo l'ultima vera azione del match per il Legnago con questo colpo di testa solo sfiorato da Grandolfo anzi no pallone toccato con la mano dall'attaccante della Legnago che viene anche ammonito dal direttore di gara dunque il match che dopo appena tre minuti di recupero non ha praticamente più nulla da dire va in archivio come dicevamo con la vittoria scaccia crisi del Legnago 3 a 0 franco 3 a 0 sulla Fano e rilancio avvertito anche in classifica eh sì mister davvero un match importante questo che segna un rilancio del Legnago 3 a 0 e Legnago come dicevamo Giancarlo con questo nuovo spirito può essere una mina vagante per la salvezza si è visto come spingeva poi combattere su tutti i paloni anche andarli a prendere fuori tutte robine che alla fine guadagni un fallo laterale un corner alla fine butti lì alla fine la somma che fa il totale alla fine dunque il Legnago che si rilancia noi invece ci fermiamo per qualche minuto torneremo e abbiamo ancora tante cose interessanti da vedere soprattutto per quel che riguarda la zona altissima della classifica c'è da capire come il Matelica abbia travolto il Padova quest'oggi davvero un match assolutamente da non perdere intanto però regia Infotech con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici è HP Platinum Partner Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage workstation e pc garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile Infotech propone l'ufficio efficiente e green affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP page wide a zero emissioni di polveri sottili mettiti comodo Infotech che troverà la soluzione giusta per te www.infotech.it Torniamo allora in diretta con Fischio finale siamo nella terza parte della nostra trasmissione tra poco dovrebbe essere pronto il collegamento che abbiamo in programma con Marcello Missiroli per parlare di quella che è non è più solo un'ipotesi ma una vera e propria possibilità concreta della ripartenza del campionato di eccellenza prima però dovrebbe essere terminato anche il match di Cagliari dove la Juventus non ha più incassato altri gol ha portato a compimento la sua vittoria esterna 3 a 1 come detto firmata dalla tripletta nella prima frazione di Cristiano Ronaldo e poi dal gol della bandiera dei rosso-blu isolani del Cagliari firmato da Simeone e allora vediamo la classifica che riporta in auge letteralmente la Juventus anche nella corsa per lo scudetto perché lo ricordiamo ancora Juventus che è a 55 punti a meno uno dal Milan che deve giocare questa sera col Napoli altrettanto dovrà fare proprio la squadra bianconera più avanti il 7 aprile data contestatissima dalle rivali per la Champions League ancora contro il Napoli intanto chiedo alla regia se è tutto ok per il collegamento oppure no se è possibile dunque parlare con Marcello Missiroli chiedo conferma Marcello ci senti? Sì io mi sento perfetto allora benvenuto alla dirigente del Duca Grama Marcello Missiroli allora in settimana è arrivato l'ok per la ripartenza dell'eccellenza si parla dell'11 aprile che sarà una ripartenza su base volontaria e al momento si segnalano tre società romagnole sabinianese il classe e appunto il del Duca Grama che sarebbero protagoniste di questo girone che verrà formato con anche le compagini emiliane e allora Marcello per voi ripartire è anche il segno di una promessa che era stata fatta quando il campionato era stato sospeso correggimi se sbaglio no no è tutto vero noi ci siamo ci eravamo trovati con i ragazzi al momento della sospensione e gli avevamo garantito che se ci fossero state le condizioni e i parametri della Lega idonei avremmo ricominciato il campionato questo è successo la settimana scorsa quindi noi abbiamo chiamato i ragazzi gli abbiamo detto che la volontà della società è quella di finire il campionato che era iniziato chiaramente è un è pronto? Sì mi sentite? Adesso ti sentiamo Marcello era andata via la voce ecco dicevi una volontà che si sta manifestando che avete manifestato anche la settimana scorsa coinvolgendo i vostri ragazzi forse c'è qualche problema col collegamento vedremo se c'è modo in maniera di ecco Marcello collegamento difficoltoso quest'oggi è difficile purtroppo averti in presenza ma con il collegamento telefonico facciamo ancora più fatica quest'oggi ed è un peccato perché è un tema che merita sicuramente approfondimento lo dicevamo e intanto che vediamo di ripristinarlo specifichiamo anche che per le società che non hanno scelto di ripartire che hanno legittimamente scelto di non ripartire nel caso in cui si andrà ad effettuare questo girone unico non ci sarà alcuna retrocessione semplicemente un blocco di ripescaccio dunque Marcello ci sei se ci sei batti un colpo come si suol dire io ci sono non so se io non so se il collegamento funzionerà io ci sono voi li sentite bene adesso noi ti sentiamo e allora permettimi di approfondire al di là della promessa di cui ci stavi parlando e che puoi eventualmente di nuovo approfondire anche il discorso del fatto se per voi l'ok è definitivo oppure no se diciamo c'è ancora invece qualche margine che vi potrebbe convincere a non ripartire soprattutto dal punto di vista economico se non riceverete garanzie no giustamente noi la volontà di ripartire lo abbiamo abbiamo però tutto è comunque vincolato al fattore che probabilmente sarà collegato a un protocollo che sarà simile a quello della serie B e quindi un po' dei costi superiori perché i ragazzi dovranno essere dovranno fare campioni settimanali e saranno chiaramente trasferte super lunghe perché il romagnolo come ti giustamente hai ricordato al momento siamo tre ma a me risulta due perché la sanità probabilmente rinuncerà e quindi sono trasferte lunghe e abbiamo avuto promesse dalla federazione diciamo di avere questi famosi ristori adesso dobbiamo la parola ristori è quello che riguarda delle spese mediche e le spese di trasferta quindi se la federazione manterrà la parola che riguarda le ristori noi non abbiamo nulla di contrario abbiamo dato la nostra visione e la nostra visione rimarratata quindi se poi non da ultimo bisogna considerare la condizione sanitaria quando sarà fuori il 11 aprile se si potrà giocare o meno in base poi all'epidemia come evolverà prima di salutarci Marcello una domanda invece si può dire che un'eventuale ripartenza della campionato di eccellenza in un momento così difficile non solo per il calcio ma proprio per il paese e per il mondo una pandemia che ha colpito l'intero pianeta insomma sarebbe comunque un segnale un segnale che potreste lasciare per quanto riguarda il calcio dilettantistico una bandierina che però come sottolineavi tu non deve essere assolutamente a detrimento di quella che è la salute dei giocatori che scenderanno in campo sei d'accordo con questo punto di vista? Certamente infatti lo ribadisco la nostra volontà di continuare ma è legata chiaramente alle condizioni sanitarie del momento dell'11 aprile quando ci sarà probabilmente il benestare è legata anche al fatto dei popoli degli stori per ovviare rispetto in più che sarà la nostra campionata Dunque ancora una situazione tutta da chiarire i prossimi giorni saranno decisivi io intanto ringrazio per questo collegamento telefonico seppur difficoltoso alla fine arrivato in porto quello di Marcello Missiroli Marcello appuntamento ad una tua prossima presenza qui da noi quando ovviamente le norme le normative consentiranno anche la presenza tua nella nostra nei nostri studi di Teleromagna intanto buona serata a te sì vi saluto vi ringrazio ne ha portito vorrei fare un un annuncio oggi è venuta a mancare una colonna della ribelle per canziani un signore che si chiama Giranvelli che è stato con noi 40 anni oggi a 90 anni assistente serenamente e volevo fare condoglianze e ricordarlo un grazie comunque a voi per il collegamento e un saluto al mister Maderi grazie grazie Marcello chiaramente condoglianze a cui ci associamo un brutto periodo sotto molti punti di vista che come vediamo ha purtroppo ulteriori sviluppi dunque condoglianze anche da parte di tutta la redazione di Fischio Finale dunque dopo aver ringraziato Marcello Missiroli torniamo ad occuparci del campionato di Serie C lo facciamo con un match che poteva segnare il rilancio della Virtus Verona ma così non è stato perché è arrivata un'altra sconfitta per la squadra veronese e la squadra allenata da Luigi Fresco è arrivato il K.O. Casalingo contro il Gubbio vediamo e dunque forse aveva alzato le braccia dal manubrio un po' troppo presto la Virtus Verona che nelle ultime settimane si era lasciata un po' andare incassando ben tre sconfitte di fila lo stesso numero precedentemente rimediato in tutta la stagione particolarmente pesante l'ultima 1-0-4 a Salò in controtendenza rispetto a quanto aveva messo in mostra precedentemente la squadra rosso-blu che aveva si incassato dei K.O. ma tutti di misura dunque sembrava qualche scricchiolio sinistro avvolgere la squadra del allenatore ma anche presidente della Virtus Verona Luigi Fresco che era attesa da un riscatto dalla possibilità di ottenere tre punti scacciacrisi e allora vediamo come inizi subito all'arrembaggio con questo cross di Marcandella respinto però dalla difesa del Gubbio Gubbio che aveva invece in canna il colpo dei possibili tre punti in caso di successo quest'oggi ci prova Pasquato con questa conclusione alta quella del numero 10 e poi 18esimo minuto ancora il Gubbio in attacco in azione Pellegrini una conclusione centrale bloccata dal portiere Giacomelli spostiamoci con le immagini iniziamo al 19esimo minuto la possibilità per il vantaggio con questa conclusione di Marcandella gran tiro sfiora il palo e poi 22esimo in attacco adesso c'è il Gubbio splendida azione in aggiramento di un Pellegrini dato in strepitose condizioni di forma l'abbiamo visto in questa circostanza così come il Gubbio qui trova sulla propria strada Giacomelli che anticipa proprio Pellegrini due squadre che non lesinano dunque energie che vogliono il gol dell'avvantaggio e ad andarci vicinissima è la Virtus Verona Mazzolo il suo sinistro sul fondo il primo tempo sembra ormai avviato alla fine così non è il palo centrato da Fedato e sulla ribattuta c'è Pellegrini che trova ancora un altro gol dopo quello realizzato contro il Ravenna ed è il gol che proprio in chiusura di primo tempo sancisce il vantaggio del Gubbio in casa della Virtus Verona sotto misura da lì non può sbagliare il numero 9 del Gubbio Virtus dunque in difficoltà Virtus che nella ripresa assiste anche all'esibizione di Pasquato da fermo conclusione completamente alta per lui e poi un minuto più tardi prova a mettersi in azione Danti fermato il piazzato dalla lunga distanza non è assolutamente pericoloso quello di Danieli andiamo a 67esimo c'è la possibilità adesso per la Virtus con questo cross dalla destra effettuato da parte di Lonardi niente da fare per Rashid Arma insomma una Virtus sicuramente in difficoltà in declino rispetto ad alcune esibizioni precedenti in cui invece aveva tenuto con molta più convinzione il campo il Gubbio fa trascorrere i minuti senza soffrire praticamente più anzi 85esimo cross dalla destra facile per il portiere Giacomella e poi 89esimo calcio di punizione c'è Pasquato la palla che sembrava diretta all'incrocio dei pali sbuca providenzialmente il portiere Giacomella sempre Gubbio in attacco sempre Gubbio a cercare il colpo della KO qui la possibilità di Ucada c'è però il salvataggio del carro l'ultima chance per la Virtus Verona questo calcio di punizione facile preda per il portiere Zamarion insomma una Virtus che non ha saputo reagire che non ha saputo dare sfoggio di una capacità di mettere in difficoltà il Gubbio alla fine ha incassato la sconfitta per 1 a 0 Giancarlo lo dicevo all'inizio della mia telecronaca insomma una Virtus Verona che ha messo al sicuro la salvezza e la classifica ancora gli dà ragione però sono già quattro sconfitte di fila un passaggio a vuoto piuttosto lungo adesso per i veronesi anche per me non pensavo mai perché l'avevo visto molto bene tenace ben organizzata il presidente stava facendo un lavoro straordinario con tutte le veste sia da presidente che da dirigente che da allenatore e la squadra ha anche dei buoni giocatori ha dei buoni giocatori ha avuto un momento che era in alte classifiche e non avrei mai pensato che avesse avuto un calo così generico proprio nel momento clou nel momento difficile dove c'è da fare il salto si guardo alto o si guardo basso e lì guardavano alto adesso sicuramente devono guardare basso anche se la classe vigna non gli crea tanti problemi perché ha 18 punti sopra le altre perciò però poteva fare molto di più perché aveva dimostrato quei valori in campo e ci si aspettava molto di più perché abbiamo visto una squadra con dei valori importanti un gioco sufficiente che ha fatto divertire e dove andava lasciava il segno perché non è che ha preso delle batoste per questo mi siamo rimasti un attimo da capire allora se si perpetuerà questo stato davvero negativo della Virtus Verona nei prossimi impegni lo dicevamo subito il turno infrasettimanale per quanto riguarda il campionato di serie C e poi domenica un altro turno che riguarderà ancora la terza serie nazionale noi però siamo quasi arrivati alla rascia finale della nostra trasmissione andremo a vedere le vittorie che hanno scombussolato la corsa per la promozione diretta lo facciamo però dopo l'ultimo pit stop a nostra disposizione dunque linea alla regia commerciale agricola di Billy Giovanni SPA punto di riferimento per la vendita e il noleggio di macchine agricole industriali e per il giardinaggio concessionaria New Holland rivenditore dei più importanti marchi la nostra forza è un servizio assistenza con officine mobili di pronto intervento automezzi per trasporti anche eccezionali tecnici altamente specializzati fornitissimo magazzino di ricambi originali disponiamo inoltre di un vasto parco di macchine usate controllate e garantite un centro servizi per consulenza tecnico-agronomica fiscale assicurativa e finanziaria la commerciale agricola di Billy Giovanni SPA sede a fornivi a Dragoni 114 filiali rimini-fano punto vendita a Modena www.lacommercialeagricola.com e allora andiamo a Perugia per vedere la vittoria casalinga ottenuta dagli Umbri quella che ristabilisce la terza posizione in classifica con vista addirittura sulla prima visto il recupero che devono ancora sostenere i ragazzi appunto del Grifone vediamo e dunque al netto delle polemiche arbitrali il pari di mercoledì contro il Cesena aveva dimostrato come ancora qualcosa mancasse alla Perugia per reggere il ritmo forsennato del Padova capolista sembrava una Perugia un po' in difficoltà anche per alcuni passaggi a vuoto dell'ultimo periodo tra cui anche il pari la sconfitta proprio rimediata col Padova il pareggio casalingo contro la Samba insomma serviva una vittoria quest'oggi ed è una vittoria quella che cerca con grande convinzione in La Perugia con questa battuta dalla distanza di Melchiorri il gran tiro il salvataggio del portiere Matteo Rossi squadre sullo 0-0 Carpi che è reduce invece dal 3-0 inflitto dal Modena ed è un Carpi sicuramente più in convinzione rispetto agli ultimi tempi ci prova con questo sinistro di Decenco e attento il portiere Fulignati la palla che era stata anche deviata stava per scavalcarlo 27esimo punizione sulla 3-4 e la grande chance sprecata dall'Omolino sul perfetto tracciante di Bellini che pericolo questo per il Perugia ma ha passato la festa ha gabbato lo santo perché come vediamo da una punizione nasce l'erroraccio di Rossi la punizione è quella di Moscati il gol sotto misura è quello di Murano il vantaggio della Perugia ma è marchiano l'errore del portiere del Carpi che poi viene addirittura travolto da Murano nel momento in cui sta spedendo il pallone in rete tutto ciò come detto al 35esimo è un Perugia che si è dunque liberato del problema del gol e che sfiora il raddoppio in questo caso Rossi che prima era scivolato mentre stava andando incontro all'avversario poi ha un grande colpo di Reni per mettere il pallone sulla traversa per dire di no in questo caso a Murano ed evitare l'immediato raddoppio della Perugia che continua a spingere siamo al 42esimo altra discesa di Melchiorri palla respinta da Rossi palla ancora viva per il Perugia che combatte non riesce però a tramutare in rete questa percussione di Quan e poi altro cross il Carpi che si difende con le unghie e con i denti vuole evitare il secondo gol che infatti non arriva a fine primo tempo Perugia che reclama un altro rigore dopo quelli reclamati a Cesena il contatto dubbio tra Gozzi e Minesso resta qualche dubbio nella circostanza come dicevamo però se ne fa un cruccio troppo grande il Perugia che al 68esimo minuto trova il piazzato vincente la punizione vincente di Minesso all'incrocio dei pali battuto ancora il portiere Rossi il raddoppio del Perugia contro il Carpi 2 a 0 e partita che sta dunque andando nelle mani della squadra del tecnico Caserta il Carpi che è in difficoltà intanto però come sappiamo il Padova che sta cadendo in casa del Matelica insomma una giornata d'oro l'avevamo definita per il Sutirol ma anche per il Perugia attualmente vicinissimo alla vetta come non lo era stato nelle ultime settimane il Perugia che dunque porta sul 2 a 0 il match il Carpi che ci prova con De Sena respinge il portiere Fulignati poi 77esimo la possibilità per il Perugia con questa conclusione di Minesso salva il portiere Rossi evita il 3 a 0 e poi il Carpi che vuole riaprire il match si fa largo con le buone con le cattive Fofanà palla ancora viva per Giovannini in area di rigore c'è però il fallo commesso ai danni di Sunas vediamo il replay innanzitutto della conclusione di Fofanà e poi Giovannini che come vediamo travolge letteralmente il numero 13 del Perugia ci spostiamo siamo ormai in pieno recupero il match è sostanzialmente già avviato verso la squadra padrona di casa l'ultima vera chance però è della Carpi Ferretti che spara sul fondo e allora si arriva la vittoria del Perugia 2 a 0 ai danni del Carpi meno 4 dal Padova con ancora una partita da recuperare questi sono gli ultimi frangenti del match ma possiamo anche staccare torniamo in diretta e vediamo dunque come il Perugia abbia sconfitto il Carpi e come il Padova sia accaduto pesantemente in casa della Matelica 4 a 1 a beneficio dei marchigiani e campionato riaperto andiamo subito a vedere il filmato in effetti in tanti avevano già lasciato le penne all'Elvia Recina di Macerata la tana attuale della Matelica con i marchigiani che avevano già messo abbondantemente al sicuro l'obiettivo della salvezza con le ultime vittorie in serie ottenute su Virtus Verona e Ravenna insomma una Matelica che non aveva sicuramente timore reverenziale tutt'altro è il Matelica a fare la partita subito sin dal terzo minuto Volpicelli centrale blocca il portiere Vannucchi e poi si scatena Di Renzo mette al centro un pallone si apre una voragine nella difesa del Padova ne approfitta Moretti che porta in vantaggio la squadra di la squadra padrona di casa la squadra di Colavitto dunque avanti sul Padova dopo una primi 20 minuti di gioco incredibili ma come vediamo è scivolato nella fase decisiva dell'assist Gasbarro è lui che lascia sostanzialmente spazio e campo aperto alla Matelica che continua la sua pressione anche qui lancio per Moretti messo giù da Rossettini calcio di rigore per il Matelica al 19esimo minuto di gioco dal dischetto trasforma Leonetti il raddoppio della Matelica che effettivamente sta non solo dominando sul 2 a 0 il match ma sta dominando anche il Padova dal punto di vista del gioco e lo vediamo anche al 23esimo minuto ancora la discesa sulla sinistra dei Moretti che va a sfiorare il palo sfiora il raddoppio la doppietta personale il numero 17 ma come vedremo saprà sicuramente incrementare il proprio bottino di Reti ma non solo insomma l'autentico NDP del match ma noi siamo al 42esimo con il Matelica sempre in attacco il Padova inesistente nella prima frazione rischia il Tris diagonale out di Calcagni palla dunque sul fondo e Padova che entra finalmente in partita nella ripresa Chiricò liberato mette a sedere l'intera difesa dei padroni di casa serve l'assist per Biasci e la partita si riapre grazie alle grandi individualità della Padova ad inizio ripresa l'assist come dicevamo di Ronaldo che mette a beneficio di Chiricò anche qui tre giocatori che vanno a vuoto sulla sua finta e poi il gol di Biasci 2 a 1 ma il Padova poteva prendere l'abbrivio per cercare la rimonta completa invece altra frittatona il disastro completo di Rossettini già autore del fallo da rigore già ammonito qui stende fuori dall'area di rigore Moretti riceve il secondo giallo c'è l'espulsione per lui e una punizione anche molto invitante per il Matelica soprattutto il Padova che resta in inferiorità numerica tre minuti dopo aver raccorciato le distanze e allora il Padova vuole comunque cercare il pareggio ci prova con questa conclusione out dalla distanza di Jelenic pallone sul fondo ma il Matelica può beneficiare di un'altra possibilità con Mbaillet che mette per Amoretti che segna un altro gol splendido un'autentica ira di Dio quella del numero 17 e sentiamo imperversare la canzone di Raffaella Carrà Pedro nel sottofondo musicale abituale che ormai abbiamo conosciuto a Macerata insomma un Matelica dominante un Matelica che va sulla 3 a 1 il Padova in ambasce ci prova con questa punizione facile quella di Chiricò per Vannucchi ma non è ancora finita siamo alla 65 altro contropiede perfetto della Matelica con Calcagni che apre sulla destra per il serimento splendido di Volpicelli il pallone che finisce dalle parti di Moretti dopo la respinta di Vannucchi tripletta e giornata perfetta per il numero 17 del Matelica Padova sulle ginocchia come forse nessuno si sarebbe potuto spinto ad immaginare anche per la dimensione dell'insuccesso qui grave la respinta effettuata in malo modo dal portiere Vannucchi gli ultimi minuti e siamo appena al 69 sfuggono via alla Padova senza troppi sussulti c'è il cross di Chiricò c'è il colpo di testa out di Paponi e poi 82 ancora Padova a cercare il gol della Speranza la bella girata in sforbiciata quella di Biasci sicuramente uno dei pochi a non essersi arreso si arrende invece il Padova di nuovo la canzoncina a illuminare la giornata della squadra padrona di casa della Matelica 4 a 1 Giancarlo Magrini siamo ormai in chiusura di trasmissione campionato completamente riaperto credo che dopo aver visto una cosa ci sono di tanti chapeau di cappello perché è stata veramente una vittoria voluta tutti vicini tutti aiutarsi si vedeva proprio c'era la voglia di dare gol di là sapevano che era una squadra importante si sono trovati vantaggio ancora non dico dominare al minimo hanno dominato a largo perché erano padroni della situazione sono mai andati in difficoltà visto quello che abbiamo visto e poi non parliamo che questi sono i primi gli hanno dato 4 gol alla fine parliamo sempre di una società debuttante nel campionato di Serie C è chiaro che c'è il debutto di una squadra che ha giocatori professionisti che hanno fatto la B alcuni anche la A contro una squadra di lettanti dalla D che è venuto da G fa benissimo però non è da confrontare sui due paragoni di lavoro assolutamente è così dunque abbiamo chiuso anche noi col botto la nostra trasmissione con questo incredibile matelica Padova 4 a 1 e allora innanzitutto vorrei ringraziare per essere stato qui con noi mister Giancaro Magrini grazie a voi e buonanotte arrivederci appuntamento alla prossima con mister Magrini domenica prossima saremo regolarmente in onda anche se lo anticipiamo sarà un'edizione ridotta quella di fischio finale perché precederà la diretta in programma per Teleromagna della partita della Cesena lo abbiamo detto mercoledì il match proprio fra Cesena e Mattelica e non sarà certamente una passeggiata per i bianconeri lo abbiamo appena visto e poi invece domenica prossima ore 20 e 30 Modena Cesena con la trasmissione in la telecronaca in diretta del Big Match del Braglia per quanto riguarda invece questa sera abbiamo concluso per cui nel ringraziarvi per essere stati qui con noi auguro a tutti voi una buona proseguimento di serata arrivederci arrivederci ciao sono il dottor Matteo Lazzarini mi sono laureato in odontoiatria nel 1997 e in tutti questi anni il lavoro del dentista è cambiato molto oggi esistono delle tecnologie che possono rendere le terapie odontoiatriche più sicure e veloci come la TAC con BIM il microscopio il laser e lo scanner per l'impronta senza pasta ma le mie tecnologie preferite restano la scienza e l'onestà e allora non andare all'estero a curare il tuo sorriso scegli i medici italiani scegli noi vieni a trovarci Romagna Sport primo dal 2001 la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare proprio come i professionisti i primi a pubblicare la carriera degli atleti i primi e gli unici ad avere il calcio mercato interattivo i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport Romagna Sport il primo sito sportivo in Romagna in tutto